La campagna di raccolta firme sta andando benissimo, c'è un afflusso straordinario non solo online, anche nei banchetti dove le file sono molto lunghe, dove le firme sono già decine, decine di migliaia, forse centinaia di migliaia. Non abbiamo ancora un primo report, ma il dato ci dice che c'è una grande risposta del Paese di fronte a una controriforma che spacca, frammenta l'Italia, la rende meno competitiva su scala globale e punisce non solo il mezzogiorno, ma tutte le fragilità aumentando le diseguaglianze. Questa risposta fa ben sperare anche poi per il referendum che verrà.